Uno dei temi caldi in quest'estate dal clima rovente è non solo per le alte temperature e il rientro a scuola in sicurezza per alunni insegnanti e personale scolastico. Vaccini, trasporti, protocolli di sicurezza negli edifici scolastici sono i nodi da sciogliere che preoccupano famiglie, docenti e politica. In Sardegna si registra l'intervento del consigliere regionale del PD, Piero Comandini, che a proposito della riapertura delle scuole in sicurezza si dice preoccupato per la mancanza di un dato certo sul numero dei vaccinati tra il personale scolastico suddiviso per territori e istituti. Il rapporto del commissario Figliuolo del 21 luglio vede la Sardegna preceduta da Sicilia e Liguria tra le regioni maglia nera per numero di vaccinati nella scuola col 33,2%. Comandini, citando il decreto legge 111 del 6 agosto che stabilisce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche con sanzioni verso il personale che non si vaccina, ritiene necessario che sia importante conoscere la reale situazione in Sardegna, considerato che mancano solo cinque settimane all'inizio dell'anno scolastico. E per dare certezze soprattutto alle famiglie che, si legge nella nota dell'esponente PD, hanno bisogno di sapere se troveranno una scuola organizzata in termini di sicurezza sanitaria, docenti e personale vaccinato, si chiede alla giunta regionale di attivarsi in tutte le forme perché, sul diritto allo studio, conclude la nota, la nostra isola non può più continuare a pagare prezzi altissimi. A tal fine il gruppo PD in consiglio regionale ha depositato una mozione, primo firmatario proprio a Comandini, con la quale impegna il presidente della regione, Cristian Solinas, a prevedere, in sinergia con le altre autorità competenti in materia, l'adozione di un protocollo di sicurezza per la riapertura delle scuole a settembre, in grado di garantire l'attività didattica in presenza e la prosecuzione di un normale anno scolastico.